ciao a tutti ragazzi e benvenuti sull'eleking tv anche quest'oggi si spacchietta e si fa il cielo mi manca di questa raccolta di fifa 365 quindi abbiamo il nostro album e i nostri bei 5 pacchetti 1 2 3 4 e 5 da spacchettare voi lasciate come sempre un bel like se siete dei patiti della panini e lasciate anche un bel commento con la vostra figurina preferita in più faremo ragazzi la nostra top 11 delle figurine che troviamo neanche lì ragazzi potete commentare se avreste fatto una top 11 diversa da quella che faccio io ragazzi questo album mancano veramente pochissime figurine io ancora non faccio l'ordine la panini per questo album e l'ho fatto dei calciatori ma ancora non sono arrivate sono leggermente ritardo in ritardo la panini mi ha risposto mi ha detto che praticamente sono stati sommersi dagli ordini e hanno dei ritardi a consegnare questa raccolta comunque come stavo dicendo ancora non ho fatto l'ordine perché ho ancora tante bustine da aprire prima voglio aprire tutte le bustine che ho a disposizione e dopo di che farò l'ordine quindi iniziamo subito la bustina vediamo cosa esce fuori allora noi facciamo così spostiamo il nostro album prima spacchettiamo ci mettiamo qui divisi i nostri calciatori che troviamo e poi proviamo a fare questa top 11 allora il primo che troviamo è siti beh difensore francese lo mettiamo qua baskets giocatore spagnolo del real madrid centrocampista il centrocampista scusate attaccanti lo centrocampista attaccanti perché vale sempre il bollino che mette la panini e poi troviamo pizarro giocatore argentino centrocampista questa volta è veramente centrocampista stefan jovetich ex di fiorentina inter del nostro campionato giovane promessa e poi non ha mantenuto del tutto le sue diciamo prospettive di carriera e giunigno difensore secondo pacchetto speriamo di portare di trovare il portiere perché può essere sempre più difficile a trovare troviamo lo scudetto il club america siamo qui miller giocatore tetesco attaccante ragazzi miller giocatore e non lo yogurt quello di fate l'amore con il sapore allora di allo difensore del borussia dortmund braini del porto centrocampista stanno uscendo dei buoni giocatori a uribe altro centrocampista del club america terzo pacchettino ragazzi sentite come suona vediamo cosa esce fuori c'è uno scudetto è lo scudetto del manchester city poi in più abbiamo la maglia del bayern monaco che ita balde attaccante ex lazio poi abbiamo francia e inghilterra del calcio femminile nazionale femminile eccole qua o il portiere è uscito è su basic ragazzi anche un buon portiere ragazzi veramente un buon portiere non ci possiamo lamentare il portiere che ci è uscito adesso vediamo che riusciamo a prendere qualche altro top player da mettere sulla nostra rosa c'è un italiano vediamo chi è vediamo chi è caliguri caligiuri scusate caligiuri centrocampista cebalos spagnolo del real madrid centrocampista un altro jovedic attaccante appena trovo due in uno spacchettamento due doppioni spacchettando veramente guarda è una cosa eccezionale proprio milic attaccante del napoli come sapete e fati difensore del hali squadra egiziana apriamo altro pacchetto ultimo pacchetto di questo spacchettamento vediamo vediamo se esce fuori qualcosa di buono lemar buono per centrocampo per adesso ragazzi giocherei quasi con tre difensori 4 centrocampisti e 3 attaccanti cimic difensore tedesco del bayern monaco versalico qui con la maglia dell'inter lo squadetto del corinzia e schwab altro tedesco del psv in dove difensori allora la facciamo qui la top 11 e la facciamo sull'album su basic portiere ragazzi no giochiamo facciamo cinquattro tre tre perché la fine il centrocampista fine pensano metterne tre soltanto quindi mettiamo versalico cimic di allo e si di be e questa è la linea difensiva con i quattro difensori poi centrocampo lemar cebalos e braimi del porto poi milic che ita e baskets e questa è la mia allora scusate ragazzi qui abbiamo miller mi possiamo lasciare fuori miller mettiamo giulera a posto di che ta questa è la mia formazione con questo spacchettamento la mia top 11 fatemi sapere nei commenti nei commenti che cosa ne pensate che cosa avreste cambiato intanto io mi sistemo le figurine facciamo cielo mi manca siamo pronti con cielo mi manca come ho detto prima ragazzi non vi aspettate grandi cose questo cielo mi manca perché sicuramente cioè ci sono alte possibilità che non mettiamo neanche una figurina come già è successo iniziamo subito gli scudetti che ce l'abbiamo tutti quindi manchester city e corinzia fuori anche club america andiamo invece alle divise e invece qui ragazzi una l'abbiamo trovata quella il bayern monaco che mi manca col 32 eccola poi andiamo avanti manchester city manchester city niente atletico di madrid lemar doppione che ce l'ho tutte real ma dell'atletico madrid del barcellona e manca sul portiere non l'ho trovato e del real madrid ce l'ho tutte quindi le leviamo valencia ce l'ho tutte monaco ce l'abbiamo su basi ce ce l'abbiamo city b e ci abbiamo io vedici che ce l'avremo meno 3 mila volte io vedici penso pari san germen ce l'ho completo bayern monaco ce l'ho completo quindi sia cimic che e miller fate l'amore con il sapore sono doppioni andiamo avanti e qui abbiamo la 178 che è un altro doppione del borussia dortmund shalk 04 caligiuri 203 doppione dove eccolo internazionale abbiamo trovato la 212 versalico ed è doppione e invece la 219 ragazzi mi manca che è che ita quindi ragazzi abbiamo messo a sorpresa due figurine non me l'aspettavo proprio non me l'aspettavo di riuscire a mettere due figurine sull'album in questo spacchiettamento perché l'altra volta non ne ho trovata neanche una cinque pacchietti ma mancano circa 30 figurine non è facile darle a trovare a pescare e così spacchiettanto poi abbiamo milic del napoli che è doppione poi abbiamo psv in dove ne ce l'ho tutte porto ce l'ho tutte spartac mosca l'ho terminato bocca junior l'ho terminato corinzia ne manca una gremio ce l'ho tutte hal ali abbiamo trovato 355 ed è doppione eccolo qui fatì qui sotto Uribe del club america ce l'abbiamo tigers abbiamo trovato giunigno ed è doppione e pizarro che è un altro doppione perché ce l'abbiamo completo poi ragazzi ultima figurina è la 443 vediamo se questa ci manca e invece ce l'ho perché è la francia con l'inghilterra del ranking di women's world ranking quindi il i ranking delle donne diciamo così del calcio come vedete c'è prima gli stati uniti seguiti da germania dalla francia dall'inghilterra canada giappone brasilia australia olanda e corea ragazzi io vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao a tutti